Dunque, questa è una domanda generale. Allora, sono convinto, ma non sono il solo, che con una soluzione concreta e relativamente rapida, se posso dirlo, dei due casi di maggiore criticità, e cioè Montepaschi e Venete, che erano un po' di tempo che stavano lì, una gran parte del rischio percepito è stato tolto dal tavolo. Questo lo possiamo vedere in vari modi. Sicuramente un modo per vederlo è l'andamento del listino bancario in Italia in queste ultime settimane, che è stato quello che ha guadagnato di più. Naturalmente non mi basta questa indicazione, andiamo nella direzione giusta. Direi che il segnale più efficace, che siamo tornati in situazioni molto più positive, lo vedremo quando comincieremo a vedere una ripresa importante del credito, anche da parte delle banche oggetto di operazioni. Questo lo penso in particolare per Montepaschi, che ha ceduto alla risoluzione precauzionale, perché tra le altre cose ha messo in campo un piano di ristrutturazione, un piano industriale realistico, quindi mi aspetto che sarà non solo una banca che è uscita dalla crisi, ma sarà una banca che darà un contributo molto importante al sistema economico italiano. Lo vediamo anche da un altro elemento, questo è stato citato da altri intervenuti, in quanto riguarda la discesa dei flussi, in primo luogo, e in parte già cominciamo a vederlo sugli stocks, dei flussi degli NPL.